Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti a questo primo webinar sul tema del bilancio del debito pubblico. Il webinar fa parte di un corso online intitolato Economia e cittadinanza che a sua volta rientra in quella che è la tematica di cittadinanza e costituzione che secondo le indicazioni del Ministero farà parte anche, saranno delle parti del colloquio dell'esame. Si tratta comunque, al di là dell'esame, di un argomento, questo trattato Economia e cittadinanza, in questo corso, fondamentale per esercitare la cittadinanza attiva, diritti e doveri del cittadino, soprattutto per partecipare in modo consapevole e attivo alla cura della casa, perché questo significa economia, cura, gestione, amministrazione della casa e la nostra casa, in quanto cittadini non sono le quattro mura in cui viviamo, ma è lo Stato italiano. Anzi, nell'ottica della globalizzazione ormai bisogna conoscere ed essere consapevoli anche di altri elementi che riguardano, per esempio, il rapporto tra gli Stati. Quindi ci occuperemo di macroeconomia, più esattamente vedremo cosa vuol dire, ma tanto per capirci non degli aspetti specifici dell'economia, più dettagliati e più particolari, ma di quelle che sono le grandi variabili economiche di larga scala, quando voi sentite parlare di PIL, di debito pubblico, di crescita, stagnazione, di decrescita economica e così via, disoccupazione, inflazione, ecco sono dati macroeconomici, è un po' la macroeconomia come guardare la foresta e non i singoli alberi, studiare la foresta e non i singoli alberi, ricorrendo alla famosa metafora. Bene, vediamo subito questo corso, che essendo un corso online non si basa su dei manuali cartacei, ma tutto il materiale e tutti i servizi su cui è costruito questo corso sono online. Prima di tutto abbiamo i webinar in cui avrete la spiegazione, illustrazione, esempi, immagini, dati che verranno appunto presentati da me. Ci saranno tre o quattro webinar, la cui registrazione verrà poi offerta per una visione da parte di coloro che non sono potuti collegare al webinar o di chi vuole ripassare. Avremo poi una mappa di apprendimento, la trovate qui, questa mappa di apprendimento l'ho costruita io con un'applicazione che si chiama Mindomo e vedete qui tre argomenti di cui ci occuperemo, il debito pubblico, il bilancio dello Stato e tutti gli argomenti collegati a questo, il famoso spread e poi il rapporto deficit-pill, il debito-pill, il debito pubblico, le entrate dello Stato, quindi i vari tributi che si pagano, la composizione del bilancio dello Stato, eccetera. E poi vedremo anche altre due variabili macroeconomiche, il PIL, il prodotto interno lordo, la quantità di ricchezza prodotta all'interno di un paese e l'inflazione, quindi la variazione del prezzo dei beni e dei servizi che può crescere inflazione o decresce deflazione. E qui troverete tutto il materiale, video, brevi articoli, eccetera, dati che vi possono servire per documentarvi e per studiare naturalmente tutte queste cose. Bene, continuiamo un po', avremo poi anche un quiz, un testa scelte multiple da svolgere online per verificare, verifica formativa e non sommativa, quindi non con il voto, ma perché vi possiate da soli rendere conto se avete capito o non avete capito. Bene, questa presentazione l'avrete a vostra disposizione nella registrazione di questo webinar, vedete che nel box descrittivo su YouTube ho inserito il link alla presentazione, in modo che voi possiate poi disporre della presentazione e anche di questi due link. Ma andiamo avanti, perché chi non capisce l'economia è un idiota? Bene, idiota è una parola greca, esattamente idiotes, che significa, veniva usato originariamente col senso di chi non ha cariche pubbliche, quindi chi non svolge nessuna funzione pubblica, quindi indicava chi non contribuisce in alcun modo al bene comune, al bene pubblico, al bene della comunità, dello Stato appunto. La radice di idiota a sua volta viene da un'altra parola che è idios, se non sbaglio, che vuol dire colui che sta per conto suo, chi sta per sé, quindi indica chi vive, come dire, chiuso in se stesso e quindi non contribuisce in nulla appunto al bene comune. Ora, è idiota, vedete Mr. Bean, una delle sue espressioni più idiote, chi non capisce l'economia è idiota perché? Perché appunto non è in grado di contribuire a quella che è la cura dell'andamento della casa, dello Stato, dal punto di vista dell'economia, che è un punto di vista importante, certo non c'è solo l'economia, ci mancherebbe, c'è la cultura, ci sono mille altre cose, l'arte, eccetera, però l'economia si occupa di trovare le risorse per soddisfare i bisogni materiali e non di un gruppo, in questo caso di una comunità statale, dei cittadini di uno Stato e quindi è importante, quando voi sentite parlare di disoccupazione, di crescita economica, di disavanzo, di deficit, di spread, di debito pubblico, sono tutte variabili economiche e anche indirettamente l'economia influisce sul benessere delle persone, pensate quanto influisce sul benessere che so la salute e quindi la sanità pubblica e questo significa economia perché la sanità pubblica comporta delle spese da parte dello Stato e quindi rientra nel discorso economico, oppure la scuola, oppure i servizi come può essere il trasporto pubblico, le autostradi, i porti, gli aeroporti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come vedete direttamente o indirettamente l'economia rientra in quella cura, gestione, amministrazione, conduzione della casa a cui tutti devono contribuire ma non possono contribuirvi se non capiscono nulla di economia e purtroppo c'è da dire che la stragrande maggioranza degli italiani non comprende assolutamente neanche le nozioni più comuni e più generali della macroeconomia che noi andremo a vedere. Per carità non che siano semplici o che tutti dobbiamo diventare economisti, però dobbiamo avere quel minimo di conoscenze necessarie per partecipare in modo consapevole ed esercitare in modo consapevole e attivo la nostra cittadinanza, altrimenti lo faremo in modo passivo, saremo manipolati e saremo fondamentalmente degli idioti. Fra un po' molti di voi dovranno votare, per esempio a giugno ci sono le elezioni per il Parlamento europeo e non si può votare senza comprendere quelli che sono i problemi principali che noi viviamo oggi, come la disoccupazione giovanile per esempio. Al di là di quanto dicono i giornali politici, i problemi sono questi e sono quasi tutti i problemi legati direttamente o indirettamente, come dicevo, all'economia. Procediamo subito con la presentazione di questo webinar. Quest'immagine è molto indicativa, la palla al piede che impedisce all'Italia di decollare, di svilupparsi e di crescere, ci condanna alla recessione, alla stagnazione o comunque una situazione molto difficile, è appunto il debito che l'Italia ha accumulato. Qui vedete due valori relativi al 2017, anno per cui ho trovato dati piuttosto sicuri, che riguardano il PIL e il debito. Il PIL è il prodotto interno all'ordo, cioè la quantità di ricchezza che viene prodotta dagli italiani, privati cittadini, dai commercianti, dagli artigiani, dai lavoratori dipendenti, dalle aziende, dalle società, dalle banche, eccetera, ogni anno. È un indice dello sviluppo del paese naturalmente, un po' come se fosse lo stipendio che uno guadagna ogni mese o ogni anno. Ovviamente il debito invece che cos'è? State attenti, il debito è l'insieme del danaro, dei capitali che lo Stato ha dovuto chiedere in prestito a dei terzi, in genere banche, società finanziarie, altri stati, eccetera, per coprire il suo fabbisogno di cassa. Evidentemente lo Stato italiano nel corso degli anni, addirittura dal 1861, ma soprattutto per quanto riguarda la storia recente, a partire dagli anni 80, ha accumulato tanti debiti e quindi ha dovuto far ricorso, ha dovuto chiedere dei prestiti, questi prestiti si sono accumulati fino ad arrivare a una cifra di 2250 miliardi, che è decisamente superiore al nostro PIL, quindi capite, finché uno dei debiti che sono la metà di quanto guadagna, io guadagno 1000 e ho 200 di debito, non c'è problema, ma quando i miei debiti superano le mie entrate, allora c'è un problema. Si tratta di unità di misura profondamente differenti, perché il PIL è riferito sempre a un'unità di tempo ben precisa, in genere l'anno solare, quindi il PIL, appunto dicevamo, è il prodotto interno lordo prodotto nel corso di un anno solare, mentre il debito non è riferito a un anno specifico, infatti questo debito è stato acceso dall'Italia, acceso significa appunto, sono stati chiesti in prestito questi soldi nel corso di diversi anni e dovranno essere resi non in un anno ben preciso, ma nell'arco di un certo tempo, perché una parte di questo debito era rappresentato da capitali che l'Italia ha avuto in prestito con un obbligo per esempio di saldare questo debito fra 10 anni, un'altra parte di questo debito andrà saldata fra 3 anni, fra 3 mesi, qui erano scadenze diverse e quindi non si può definire in modo certo il debito, o meglio si può definire in modo certo, ma non è una misura numerica ben definita, è una misura di flusso, varia continuamente il debito, anche perché l'Italia per pagare il debito arretrato deve accendere nuovi prestiti e così rivolgendosi al mercato, vendendo come vedremo le sue obbligazioni, insomma si va avanti all'infinito, ma vediamo gli argomenti che tratteremo, sono più o meno questi, ho già accennato, PIL inflazione, bilancio dello Stato e debito pubblico, ma vediamo una situazione di partenza familiare a tutti per capire gli elementi fondamentali del bilancio dello Stato e per capire cos'è il debito e soprattutto per evitare la confusione tanto comune tra deficit e debito. Immaginiamo un signore qualsiasi, immaginiamo di chiamarlo Giuseppe Brozzo come il nostro istituto, in realtà Giuseppe Brozzo era una persona molto avveduta, non si sarebbe indebitato come il Giuseppe del nostro esempio, è stato anche Presidente della Regione, eminente scienziato, sindaco di Cagliari, immaginiamo che questo signor Giuseppe Brozzo del nostro esempio abbia uno stipendio mensile quindi di 100, lasciamo stare cosa siano questi 100, possono essere euro, dollari, dobloni, fiorini, non ci interessa, zecchini, sono 100, una somma di 100. Le sue spese correnti, state attenti a questa pressione, spese correnti vuol dire le spese effettuate nel mese in corso, quindi nel corrente mese, per quello si chiamano correnti, per soddisfare le esigenze e i bisogni del signor Brozzo, mangiare, dormire, pagare le bollette, comprare la benzina, i vestiti eccetera, spese correnti sono 80, quindi facendo la differenza tra entrate e uscite, abbiamo un saldo di più 20, un saldo positivo, questo nella contabilità si chiama avanzo primario, perché avanzo primario? Perché purtroppo non dobbiamo tener conto soltanto di queste uscite, ci sono altre uscite, per esempio, un esempio molto comune, molto banale, il nostro signor Brozzo, vedete, ha acceso, si dice, il problema dei prestiti è che si accendono, poi è difficile spegnerli, un po' come gli incendi, ha chiesto dei prestiti alla banca per comprarsi l'appartamento, quindi ha acceso un mutuo e anche per comprarsi un'auto e in tutto deve pagare ogni mese una rata di 100, inoltre a questi 100 dobbiamo aggiungere 20, che sono gli interessi, il tasso di sconto, il tasso di interesse sul danaro, cosa vuol dire tasso di interesse? Nessuno ci presta dei soldi gratuitamente, per bontà d'animo, i soldi sono una merce come ogni altra e i soldi si vendono, cioè hanno un prezzo, le banche sono come immaginate di dei negozi in cui anziché vendere automobili o computer o vestiti o patate, si vendono soldi e hanno un prezzo, il prezzo si esprime con il tasso di interesse, quindi al signor Brozzo la banca ha prestato 100, ma in cambio vuole un tasso di interesse del 20%, il tasso di interesse annuale qui nel nostro esempio è mensile, ma insomma per facilità di calcolo ho usato queste cifre così semplici e così tombe, a questo punto vediamo che le uscite complessive oltre alle spese correnti che rientrano alla contabilità ordinaria, devono tener conto anche degli interessi sul debito 20 e del debito 100, quindi alla fine 200-100 non dà più più 20, dà meno 100, però state attenti, non abbiamo una situazione di deficit, abbiamo un debito ma non un deficit, è inattivo il nostro signor Giuseppe Brozzo, ha un avanzo primario di più 20, primario perché è calcolato senza considerare il debito e gli interessi sul debito, se teniamo conto degli interessi sul debito e del debito ci accorgiamo che invece ha un ammanco di 100, un fabbisugno di cassa di 100 e quindi deve fare ricorso al mercato si dice, cioè deve chiedere un altro prestito a qualcuno e il nostro povero signor Giuseppe Brozzo rischia di cadere, in questa immagine ho voluto rappresentare Giuseppe che cade nel gorgo del debito, del circolo vizioso, della spirale del debito. Ebbene, perché la spirale del debito? Ha bisogno di 100 il nostro signor Brozzo, gliele prestano e però deve pagare il 10% di interesse, cioè alla fine dovrà rendere 110, quindi il mese successivo, febbraio poniamo, dovrà, avrà bisogno di, o vince alla lotteria e quindi non ha più problemi, salda il debito ed è tutto fatto, ma siccome è raro, la situazione più normale sarà che il nostro signor Brozzo avrà bisogno di 110 per rendere i soldi chiesti a gennaio, che gli verranno prestati con un tasso di interesse del 10% che dà grosso modo 121 e così via, a gennaio, a marzo, a marzo dovrà rendere 121, chiederà un prestito e dovrà rendere 132, guardate cosa succede ad agosto, dopo solo 8 mesi il signor Brozzo a novembre dovrà chiedere, dovrà rendere 187 Euro, a novembre, scusate, dopo agosto c'è settembre, a settembre, immaginate a dicembre, a dicembre dovrà rendere più di 200, adesso non ho fatto i conti fino a dicembre, 220, una bella cifra, cioè avrà raddoppiato nell'arco di un solo anno, avrà raddoppiato il suo debito, a questo punto potrà anche correre il rischio che uno gli dica, ma bello mio, io i soldi non te li do più, perché tu è un anno che vai avanti con questa storia che per pagare il debito fai un altro debito e poi fai un altro debito e poi fai un altro debito, a questo punto il tuo debito è raddoppiato, fra un po' non ce la farei più, quindi se vuoi ancora soldi da me, caro Giuseppe, io te li presto pure, ma siccome il rischio che tu non me li renda perché tu potresti fallire e non essere più in grado di rendermeli, allora siccome corro un rischio maggiore, voglio essere pagato di più, cioè questo denaro te lo vendo, ma te lo vendo a un prezzo più alto, non al 10% ma poniamo al 20%, e così la spirale del debito si aggrava ancora di più. Bene, ecco questa è indicativamente la situazione italiana, qui vi mostro la situazione delle entrate e delle uscite dell'Italia relativa al bilancio preventivo, bilancio dello Stato preventivo del 2017, quindi un bilancio approvato nel 2016 che prevedeva le entrate e uscite dello Stato italiano nel 2017, le entrate previste erano 567 miliardi, le uscite 486, quindi la situazione è positiva, non come dicono tanti economisti che accusano gli italiani di vivere al di sopra dei propri mezzi, cioè noi spenderemo di più di quello che abbiamo, in realtà no, noi paghiamo più tasse e comunque abbiamo più entrate rispetto alle nostre uscite, siamo parsimoniosi, siamo un paese virtuoso da questo punto di vista, addirittura abbiamo un avanzo primario di 30, queste non sono cifre immaginarie, sto parlando di 30 miliardi, bene, però purtroppo dobbiamo pagare gli interessi sul debito, nel 2017 vanno a scadenza obbligazioni, quindi lo Stato deve rendere in quell'anno di quei 2200 e passa miliardi di Euro che costituiscono il totale del nostro debito pubblico, deve renderne 254, perché scadono quell'anno, quindi lo Stato italiano quando ha chiesto questo danaro l'ha chiesto con determinate scadenze, ecco nel 2017 scadevano dei debiti che noi dovevamo saldare appunto nel 2017 per un totale di 254 miliardi con un tasso di interesse di 79 miliardi, quindi come vedete se calcolo anche questa cifra vado molto sopra le entrate e non ho più un avanzo primario, quindi anche qui attenti, l'Italia ha un avanzo primario, quindi non è in deficit il bilancio dello Stato, cioè le entrate e le uscite nell'anno corrente sono positive per le entrate, la differenza è positiva per le entrate, ma siccome abbiamo un debito arretrato che non viene conteggiato tra le spese correnti, perché è danaro che si riferisce a spese, cioè a un debito acceso gli anni precedenti, però noi dobbiamo tenere conto perché dobbiamo rendere questi soldi, ecco che la situazione diventa una situazione che esige un fabbisogno di cassa, cioè insomma c'è un disavanzo che non è primario, è secondario, ma comunque i soldi devono essere emessi. Bene, qui vedete 1700 Euro di PIL, l'abbiamo già detto, 2250, adesso avrete capito perché 2250 è una grandezza di flusso, non è una grandezza ben definita, perché appunto vanno resi a scadenze diverse, questi danari possono aumentare o diminuire da un anno all'altro, addirittura da un mese all'altro, perché nell'arco di un anno lo Stato italiano chiede soldi a più riprese in diversi mesi dell'anno e quindi cambia continuamente, quindi indica un flusso che si modifica costantemente. Bene, andiamo avanti, vediamo questa che è la situazione italiana, io qui ho preso in esame la situazione italiana relativa al quadriennio 2014-2017, come vedete il nostro debito è in continua crescita, non diminuisce, il nostro PIL invece, insomma cresce anch'esso, ma non nella stessa proporzione del debito o comunque non riusciamo a recuperare, perché il PIL è importante? Un po' corrisponde al salario che percepisce mensilmente il signor Brossu. È chiaro che se il nostro PIL è più alto del nostro debito, la situazione è abbastanza positiva, certo sarebbe meglio non averlo il debito, ma se il nostro PIL è 2.000 e il nostro debito è 1.000, va abbastanza bene, mi spiego meglio, se io guadagno 1.000 al mese e ho un debito di 100 quel mese, rate di un mutuo per esempio, non c'è un grosso problema, se invece io ho 100 di entrate e ho un debito di 1.000 al mese, oltre alle spese correnti del mese, allora sono inguagliato, ecco perché è tanto importante il rapporto debito-PIL, avrete già capito che le entrate dello Stato sono una percentuale del PIL, cosa vuol dire? Che lo Stato impone delle tasse, si chiamano imposte per quello, su che cosa? Sul reddito delle persone, cioè sulla ricchezza prodotta dalle persone, quindi tanto più il PIL cresce, tanto aumenta quella percentuale di PIL che finisce nelle casse dello Stato sotto forma di imposte. Il gettito fiscale si chiama, cioè il flusso di danaro che entra nelle casse dello Stato sotto forma di imposte, per esempio poniamo che tra le varie imposte, le vedremo poi l'IVA, l'IRPF, il 40-41% del PIL entra nello Stato, però un conto è il 41% di 1.000 e un conto di 2.000, chiaramente il 41% di 2.000 è molto di più, quindi in qualche modo più cresce il PIL, più soldi allo Stato, ma se il PIL rimane fermo, addirittura come sta capitando, adesso siamo messi male perché siamo in stagnazione, non cresce molto, gli economisti parlano di stagnazione quando il PIL cresce in una misura compresa tra meno 0,5% e più 0,5%, ecco se il PIL non cresce o addirittura va all'indietro, diminuiscono le entrate dello Stato e mentre aumenta il debito siamo nei guai. Bene, qui trovate i dati macroeconomici italiani degli ultimi 30 anni, insomma se volete vedere un po' la situazione. Questo che cosa significa? È il famoso rapporto debito-PIL, cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro debito è più alto del nostro PIL, quindi vuol dire che fatto 100 il PIL, cioè fatto 100 1.621 miliardi del 2014 di PIL, il debito è 131, quindi come se guadagnassi 100 e avessi però un debito di 131, che non sono le mie spese, le mie spese sono ancora un'altra cosa, vi ricordate la situazione del signor Brossu? Il debito sono spese arretrate, per così dire. Bene, vediamo adesso al bilancio dello Stato, cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche del bilancio dello Stato. Bene, il bilancio dello Stato è un documento, si definisce documento contabile, cioè un documento in cui noi contiamo le entrate e le uscite, in questo caso non di un'azienda o nostre personali, ma dello Stato italiano nell'arco di una determinata unità di tempo, in genere come vi ho detto è l'anno solare. Il bilancio può essere preventivo o consuntivo, capite cosa vuol dire? Lo Stato deve prevedere le spese per l'anno a venire, perché non può non farlo, deve sapere esattamente quali saranno le sue entrate, quali saranno le sue uscite, in modo da poter gestire la situazione, così come una persona deve avere idea di quanto gli entrerà e di quanto gli uscirà. Naturalmente c'è un bilancio consuntivo, ma a noi interessa il bilancio consuntivo di competenza dell'amministrazione statale, è quello che si chiama per brevità i conti dello Stato, i conti pubblici appunto. Dicevo che un documento di previsione, la Costituzione nell'articolo 81 prescrive che questo documento debba essere presentato dal governo al Parlamento entro ottobre, il 20 ottobre e dopo circa due mesi, entro il 31 dicembre, il Parlamento deve assolutamente approvarlo, altrimenti si entra nell'esercizio provvisorio, ma è un altro discorso che non ci interessa. Il documento contabile, noto come bilancio dello Stato, bilancio preventivo, va presentato ovviamente l'anno prima, perché è un bilancio di previsione, per esempio noi ragioneremo sul documento contabile di previsione del 2017, che è stato approvato nel 31 dicembre del 2016 ovviamente, l'anno prima. Bene, dicevo che non ha solo una funzione contabile, cioè capire cosa ci è entrato e cosa ci è uscito a noi italiani come Stato, ma anche una funzione politica, perché le uscite rappresentano che cosa? Le spese spese che lo Stato ha. Certe spese sono, come dire, obbligate, nel senso che lo Stato deve pagare i salari, deve pagare ai suoi dipendenti, deve pagare la corrente elettrica delle scuole, deve pagare la manutenzione delle strade, oddio, non è granché, quello lo fanno le province poi. Però insomma, grosso modo avete la sanità pubblica, eccetera, sono spese obbligate. Però poi lo Stato, se ha il danaro per farlo, può anche decidere di spendere del danaro per determinate attività di cui possono beneficiare i cittadini o che magari possono far progredire l'economia. Supponiamo che lo Stato decida abbia il danaro, noi non ce l'abbiamo, perché abbiamo un debito pubblico così alto, ma supponiamo di avere il danaro per rimodernare e manutenere tutto il nostro sistema autostradale e fare nuove autostrade, sarebbero investimenti, cioè i soldi che lo Stato deve spendere, di miliardi e miliardi e miliardi, che darebbero lavoro a centinaia di migliaia di persone e quindi darebbero un reddito che porterebbe a far sì che la domanda di beni e servizi aumentasse, cioè la gente ci sarebbero meno disoccupati, più stipendi e quindi più danaro in circolazione e quindi la domanda dei beni e dei servizi aumenterebbe e quindi aumenterebbe la produzione e quindi le industrie dovrebbero assumere altre persone, eccetera, eccetera, cioè sarebbe una situazione positiva, di circolo virtuoso, purtroppo non lo possiamo fare perché abbiamo poco danaro, oppure dobbiamo fare altre scelte, per esempio questo governo ha fatto delle scelte col poco danaro che è riuscito a raccimolare in modo veramente molto difficile, molto problematico, proprio perché abbiamo questo debito, dicevo, una dozzina, quindicina di miliardi, se non ricordo la cifra esatta, questo governo, 5 Stelle e Lega, ha puntato sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100, cioè dare un reddito a chi non ha un lavoro, un reddito minimo con certi obblighi e agevolare l'uscita dal lavoro, quindi il pensionamento anticipato rispetto a quanto prevede la legge attuale delle persone, in modo che per esempio, uscendo prima da lavoro certe persone, ci siano posti di lavoro disponibili che possono andare ai più giovani e quindi in questo modo combattere la disoccupazione, però chiaramente questo comporta delle spese, lo Stato deve pagare questo reddito di cittadinanza, lo Stato deve spendere per mandare anticipatamente in pensione delle persone, sono spese con cui si spera di ottenere dei benefici, poi ognuno sta a giudicare con la sua testa se questa è una politica corretta o scorretta, positiva o negativa, però vedete che il documento contabile dello Stato non è la mera registrazione delle entrate e delle uscite, ma è anche un valore politico, perché definisce gli obiettivi della politica economica e assume certi provvedimenti che possono essere di un tipo o di un altro tipo, sapete che molti per esempio sono contrari sia al reddito di cittadinanza che alla quota 100. Detto questo, vediamo un po' le caratteristiche del bilancio dello Stato, il bilancio dello Stato deve essere annuale, ogni anno deve essere presentato per l'anno successivo, anzi ormai è invaso l'uso, data la complessità di questi conti pubblici, del debito accumulato, di presentare non solo il bilancio per l'anno successivo, ma per tutto il triennio seguente. Come tutte le leggi deve essere firmato dal Presidente della Repubblica e deve essere pubblicato in gazzetta ufficiale per diventare effettivo, per entrare in vigore, come si dice. Inoltre deve essere specifico, specifico in questo gergo contabile vuole dire che le voci di entrata e di uscita devono essere indicate tutte, devono essere iscritte a bilancio, si dice, dall'espressione si capisce abbastanza bene cosa voglia dire. Inoltre, in base anche a dei patti vincolanti, il patto di stabilità preso tra i paesi nel 2012, mi pare, della comunità europea, deve esserci un equilibrio tendenziale, cioè deve essere in pareggio. Uno Stato non può prevedere oggi in Italia, il governo italiano, non può prevedere di spendere più di quanto siano le entrate, deve essere in pareggio o in avanzo primario. Se c'è un disavanzo, non deve essere superiore al 3% del PIL, cioè se il nostro PIL è 1000, supponiamo, e c'è un disavanzo, oggi lo spendo più di quanto mi entra, questo disavanzo, se è 1000, non deve essere superiore ai 30, che se non sbaglio è un 3%, quindi 30, 300, 3000, no, non ho sbagliato, 1000, no 3000, 1000 è l'1%, 10, 100,000, sì, quindi 30, 30, non deve essere superiore a 30 miliardi, per esempio se sono 1000 miliardi nel complesso il mio PIL, il disavanzo deve essere superiore a 30. Bene, quali sono le situazioni che si possono venire a creare? Qui, Balatti, stiamo parlando del deficit, non del debito, il debito non lo prendiamo ancora in considerazione, qui prendiamo le spese correnti dell'anno e le entrate correnti dell'anno. L'avanzo primario, quando ovviamente le entrate superano le uscite, senza tener conto né del debito né degli interessi sul debito, deficit quando invece si ha un saldo negativo, cioè quando al netto, quindi senza considerare gli interessi sul debito e il debito, le uscite superano le entrate. Il pareggio è la situazione di uguaglianza, insomma, avanzo è più, deficit è meno e pareggio è uguale. Vediamo finalmente questo bilancio preventivo di competenza approvato nel 2016 per il 2017, ma come vedete è stato approvato per il triennio dal 2017 al 2019. Allora, come vedete abbiamo qui le entrate e qui le spese, le uscite. Le entrate poi le studieremo, studieremo la composizione delle entrate, delle entrate tributarie perlomeno, non di quelle extra tributarie. Le spese correnti, abbiamo già spiegato il concetto di spesa corrente e qui vedete anche gli interessi. Vedete che l'avanzo primario è dato dalle entrate meno le spese e meno gli interessi sul debito. Quindi nell'avanzo primario io voglio sapere esattamente quanto mi è entrato, 567, quante sono state le spese correnti e anche le spese in conto capitale, lasciamo perdere, cosa sono le spese in conto capitale? Sono in realtà investimenti che lo Stato fa, lo Stato acquisisce, compra azioni, compra obbligazioni, compra... cioè lo Stato in realtà non sta spendendo perché quei soldi rientreranno e quindi adesso io non li considero perché voglio avere l'idea esatta di quanto mi rimane dopo le spese correnti. Queste sono le spese correnti al netto degli interessi. Abbiamo visto che abbiamo un avanzo primario di 40, però naturalmente io ho anche purtroppo... quindi siamo in una situazione di avanzo e non di disavanzo primario. Non siamo in deficit noi Stato italiano, almeno non eravamo nel 2017. Poi però devo calcolare il saldo netto da finanziare, cioè purtroppo tra le spese che devo sostenere nel 2017 ci sono anche questi 79 miliardi e passa di interessi che ho sul debito. Li devo calcolare e quindi tenendo conto anche di questi, aggiungendo anche questi e 486 della spesa corrente, abbiamo una situazione di meno 38. Vedete come si capovolge tutto? Da dove li tiro fuori questi meno 38? Vi ho già detto che per finanziare questi due obiettivi fondamentali per il governo attualmente in carica si è a fatica riusciti a racimolare una quindicina di miliardi, ma proprio è stato un grosso problema trovarli, figuratevi trovarne 38, non è mica semplice e figuratevi come sarebbe bello se non avessimo da pagare un debito, avremo 40 miliardi di cui disporre, potremmo finanziare ben altro che questo reddito di cittadinanza o questa quota 100, lo Stato potrebbe investire, creare posti di lavoro eccetera, purtroppo abbiamo questo debito che ci obbliga, che ci impedisce di spendere per esempio di più per l'istruzione, oddio si potrebbe spendere di più sprecando di meno, ma insomma adesso non entriamo in discorsi politici, rimaniamo unicamente a queste cifre. Se a questo teniamo conto che c'è anche un debito da pagare, arriviamo a meno 293 miliardi, mi spiego meglio, non abbiamo ancora considerato che quest'anno scadano 254 miliardi di Euro che erano stati prestati allo Stato italiano dagli operatori economici autorizzati che possono cioè comprare le obbligazioni dello Stato, questi sono altri 254 miliardi, chiaramente non sarebbe possibile renderli se non chiedendo nuovi prestiti, quindi facendo nuovi debiti, in pratica o aumentiamo le entrate, ma più di così non possono essere aumentate, aumentare le entrate del 50%, portarle a 700-800 miliardi sarebbe uccidere l'economia perché le persone dovrebbero spendere quasi tutto quello che hanno in tasse, non avrebbero più soldi per comprare le cose, senza comprare le cose, cioè i beni e i servizi, l'economia non va avanti perché le industrie non producono più, perché la gente compra di meno, molto di meno, dato che deve dare un'altra 50% del suo reddito dove pagarlo in tasse, versarlo in tasse e quindi dovrebbero chiudere le aziende o licenziare, quindi ci sarebbero meno soldi in circolazione, la domanda calerebbe ancora e ci sarebbe un circolo, questa volta non virtuoso come quello di prima, ma vizioso. E quindi questo è il ricorso al mercato, dobbiamo cioè per pagare il debito e gli interessi sul debito, dobbiamo chiedere altri 293 miliardi di Euro, chiaramente su questi 293 miliardi poi dovremmo pagare gli interessi, quindi alla fine ci succede come al signor Bruzzo, cioè che facciamo un debito, per pagare un debito facciamo un altro debito e poi dovremmo fare un debito ancora più grande per pagare il secondo debito e uno ancora più grande per pagare il terzo e via dicendo. Chi volesse qui trova il link al blog di Luca Marotta in cui viene analizzato a fondo, dal punto di vista proprio contabile e economico, questo bilancio preventivo, io sono riuscito a capirne il 50-60% e mi considero soddisfatto, quindi è una sfida se volete provarci. Abbiamo già visto questa slide dove ci sono le definizioni, le ho messe perché altrimenti uno si confonde, quindi andate a leggere qui avanzo primario, se non capite come ho ottenuto questo 40% lo leggete qui, entratemelo le spese, ma dalle spese devo prima sottrarre gli interessi sul debito, eccetera, eccetera. E arriviamo alla composizione del bilancio che tratteremo nella seconda parte del webinar, quindi vi saluto e vi auguro una buona giornata.